ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi questo è un nuovo video per il canale ragazzi allora in questo video volevo annunciarvi un evento un evento che andrò a fare un evento tuning ragazzi lo feci molto tempo fa però non raggiungeremo diciamo le adesioni e adesso ho deciso di tenermi più basso diciamo dai più basso per quanto riguarda le adesioni non dovete pagare nulla dovete essere solamente iscritti al mio canale e comunque lasciare un idpsn sotto al video lasciare un like e tutto il resto e niente in questo evento tuning ora vi spiego come si svolgerà questo evento allora questo evento tuning sarà solamente per veicoli lowrider ragazzi per veicoli lowrider nessun altro veicolo in questo evento tuning verrete giudicati da dei giudici si proprio così ragazzi verrete giudicati da dei giudici e la macchina diciamo più bella quindi insomma partecipate a questo evento partecipate a questo evento lasciate like a questo video condividete questo video e nulla e anche iscrivetevi al canale ovviamente perché se io non vedrò le vostre condivisioni sui vostri profili automaticamente non premierò come sapete ho fatto contest e alcune persone non sono state premiate perché non condivide allora questo evento si svolgerà quando avrò raggiunto un certo numero di persone che partecipano quindi comunque sia voi lasciate like e lasciate il vostro id sotto sotto questo video poi io farò un altro video annuncio diciamo in cui dirò il giorno in cui si farà questo evento quindi chiedetemi anche l'amicizia sul psn se volete saperne di più il mio tag lo trovate in descrizione il mio tag lo trovate in descrizione e nulla non mi sembra di aver dimenticato nulla per partecipare lo sapete dovete solamente scrivere partecipa all'evento con il vostro id psn in maniera tale che io vi possa aggiungere iscrivetevi al canale condividete e tutte queste cazzate varie e nulla io vi aspetto numerosi questo evento verrà trasmesso non credo in live però comunque farò dei video e li pubblicherò anche sul canale quindi la macchina più bella andrà su youtube ragazzi insomma il vincitore andrà su youtube non so quanto ve ne possa fregare però magari è una cosa carina mi raccomando partecipate ragazzi per questo video è tutto un saluto da mazzi al prossimo video